Dove nasce un tornado? Nel piano astrale, dove si preparano gli eventi che poi diverranno fisici. Allora nel piano astrale si preparano anche le morti e le distruzioni che il tornado causa? Sì, perché le morti e le distruzioni fanno parte del contenuto evolutivo che il tornado comporta, ma le cause spirituali del tornado non si creano nel piano astrale, ma nei piani superiori di esistenza, in primis nel piano della coscienza. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!